in molte delle meditazioni antiche si fa uso della mimica facciale puoi fare una meditazione in tibet è una delle tradizioni più antiche prendi un grande specchio mettiti nudo davanti a lui e fai delle smorfie improvvisa delle mosse comiche osserva il solo farle stare ad osservarle per 15 20 minuti ti lascerà stupito comincerai a sentire che sei separato dal tuo corpo se non sei separato come puoi fare tutte queste strane smorfie per cui il corpo nelle tue mani è un semplice strumento nelle tue mani puoi giocarci come vuoi inventa nuove smorfie nuove posizioni divertenti e strane fai qualsiasi cosa che ti riesce e ne otterrai un profondo rilassamento inizierai a non considerarti più un corpo né un volto ma una pura consapevolezza ti aiuterà moltissimo la meditazione è la tua natura intrinseca sei tu è il tuo essere non ha nulla a che vedere con ciò che fai non puoi possederla non puoi non possederla non può essere posseduta non è un oggetto sei tu è il tuo essere 0 Grazie a tutti.